Ciao ragazzi siamo pronti per il rafting, dietro vedete l'impagabile velocità del fiume che scorre e noi scorriremo con lui per 30 lunghi chilometri per dicono 3 ore ma nessuno ci crede c'è una valanga di gente, italiani, italiani, mitraliani, un casino, una marea di coreani e la nostra guida che sta gonfiando il canotto, ciao ciao, saluti